E adesso vi presenterei un autore che forse molti di voi conosceranno più come autore di narrativa, sicuramente il numero di copie vendute con tutta una serie di libri pubblicati per lo più dall'Einaudi, sia di racconti che romanzi, lo ha fatto conoscere a un pubblico piuttosto vasto, cosa che non capita spesso a un poeta. Eppure chi conosce la narrativa dell'autore che stiamo per far entrare sa che molto del merito di quei romanzi che hanno contribuito a svecchiare la letteratura italiana degli ultimi anni è dovuto proprio a una officina laboratoriale poetica, perché è dalla poesia che viene l'autore che sta per entrare. E ci fa piacere sapere che molte volte abbia la voglia di tornare indietro a questo primo e più grande amore che è quello della poesia. Ieri Lello Voce nel presentare Sara Ventroni ha detto che con Sara Ventroni davvero si può sperare per il futuro della poesia, io credo che con il signore che sta per entrare su questo palco invece possiamo essere abbastanza sicuri che la poesia italiana ha un presente. Adesso non resta che dire il nome, lo sapete già perché è tanto scritto sul programma, Comunque è Aldo Nove. Buonasera, io leggerò due poesie, la prima sulla Madonna e la seconda sulla scoperta della pornografia da parte di un ragazzo di Varese di 16 anni negli anni 80, cioè praticamente sarei io. L'accostamento non ritengo sia blasfemo perché nella vita ci sono molte cose anche interessanti ma diverse. Madre di Dio Madre del silenzio che nella notte rovescia le città da capo a fondo, quando, pregno di spazio, il nulla smangia i bordi delle strade, il nulla smangia i sogni dei bambini, quando i lampioni gridano più neri del buio che ci spinge all'indomani, uguale a ieri il nulla delle strade e ai sogni dei bambini, quando gli occhi dei barboni alla stazione centrale degli impiegati nelle loro stanze, nel nulla dei bambini, nelle strade deserte, ci accompagna all'indomani, dalle edicole chiuse nel pastrano della notte, nel vuoto delle strade, nel nero dell'asfalto che ci smangia, la faccia tra le case deserte e ci racconta l'indomani. Eterna Regina, nostra Avvocata, Madre di misericordia, salve nostra Avvocata, nostra giaculatoria sotterranea, come adesso si frantuma l'universo e si ripete, uguale, adesso, come nei secoli dei secoli, sgranando rosari e treni, abissi, conti correnti, liste della spesa, conti correnti, liste della spesa. Madre di Clivio e di Gerusalemme, Madre di Bezzabea e Baranzate, Madre delle bustecche di Betlemme, Madre del Montenero e di Malnate, Madre del crocifisso e della strada che va dal tabaccaio a Primaticcio, dove alle sei la sera si dirada al primato di nuvole rossiccio, al primato del cielo che si slaccia dal cielo tra le nuvole di mille colori ombreggiando della tua faccia tra i gas dei camion, gli occhi, la scintilla degli occhi tuoi, Madre, prima che taccia la sera, Madre, abbracciami. Adesso si cambia registro, però, perché non c'è più la donna. Questo secondo testo è un testo impegnativo sul piano lessicale, lessicale e sintattico, perché l'ho scritto appunto usando l'italiano del 1200, del 1500 e del 1800, però c'è anche quello del 1600. E quindi farò una lettura con la parafrasi, perché magari alcuni termini sono oggi desueti, non si usano più da moltissimi anni. e quindi come con la parafrasi a scuola leggo il verso originale e poi lo traduco in italiano corrente. Il testo si chiama Come rubare analsex all'edicola ed è questo. Correva l'anno domini 81, qua abbastanza intuitivo, era il 1981, e le sudate carte ginnasiali, le rime e ritmi che non mai nessuno a 15 anni ha amato, qua c'è un riferimento a Leopardi e comunque alla fatica del lavoro dello studente, se gli strali di fuoco delle ghiandole ciascuno feruto in cuore avverte, è un'età, quella del ginnasiale, in cui a fianco a quella dello studio si manifesta o meglio si scatena un'altra attività che è quella appunto ormonale. Le normali attività di studio abbandonavo, procaci giovinette immaginavo. E qua appunto lo studente assorto nelle riflessioni scolastiche devia il pensiero per un attimo. Allo stettar è un verbo della scuola siciliana dell'antologia e significa aspettare. Quando l'avevo letto per la prima volta pensavo invece significa aspettare. Allo stettar non è simile pena quando l'edicolante vede il volto d'un giovinetto e altrove quello mena che l'età giusta non ha ancora colto per comperare analsex. che complessivamente si capisce. Comunque è la questione di un rapporto problematico tra l'edicolante e il giovane che ha un desiderio ma non può legalmente soddisfarlo. Di lena energica architetta che il mal tolto diversamente gli sia procurato. Gir tra i compagni dal più scellerato. Quindi anche un sostegno morale da parte di qualcun altro che sia in grado di affrontare questo difficile rapporto con l'edicolante. Cirrano si chiamava e assieme il fato tentammo in quell'edicola che volge a settentrione di piazza mercato. Adesso secondo me non siete tutti di Varese e penso è difficile visualizzare la scena però c'è appunto la piazza mercato principale e c'è questa edicola dove negli anni 80 luogo è all'inferno detto malebolge che ci attendeva ed ero emozionato di un'emozione che tutto travolge il fascino sottile del peccato. Cirrano intanto si era avvicinato. La prossemica la prospettiva dei corpi di fronte all'edicola i giovanotti che stanno per compiere quest'azione. O frate disse al giornalaio dammi il numero di ottobre di gioielli di Racam mentre dietro a lui lasciammi vicino a dove si ritrovano quelli che ombre mi parevano e di grammi parlavano e spacciavano monelli. Allora Racam è una rivista del secolo passato ma è ancora presente e si occupa di cucito quindi l'idea del giovane è quella di distrarre l'edicolante chiedendo questa rivista. Il tutto è collocato appunto dietro l'edicola c'erano i tossici gli spacciatori che adesso sono morti quindi non ci sono più ma negli anni 80 erano vivi. Il giornalaio lo guardò dal vetro non so se lo controllo qui nel retro Racam il numero vecchio e quanto l'occhio suo potea trardale or dal sinistro ora dal destro fianco Cirano Tosto ritrovò il giornale qua è proprio la capacità del giovane di avere una vista alla terminator che sia in grado di avere una ricognizione complessiva dell'edicola nel verde campeggiava un campo bianco e internamente femmina animale al molle materasso dava il fianco vicino al prezzo in basso la ferita che è fonte della morte e della vita questa ferita è allegoricamente un oggetto di interesse fiore fosco a due petali profondo desili steli che l'amore accocca dove si annida ogni desio profondo tepido in giù della sottile ciocca in te per te nell'empito fecondo la scintilla di vita umida scocca coperta da una casta pecettina amo la figa sulla copertina in questo caso la parafrasi è all'interno dell'ottava perché gli ultimi due versi spiegano i precedenti girossi il giornalaio in viso fosco a braccia aperte e sconsolato disse ahimè non l'ho racam di ottobre e e cirrano lasciò il chiosco sperando che la giacca non tradisse il giornale nascosto e come l'osco l'aveva trafugato e ne gioisse si incamminò verso di me felice siccome Dante fe vista Beatrice quindi il movimento era stato molto molto rapido e la analsex c'era e viva nove gliel'abbiamo fatta fu il grido di vittoria del ragazzo che già in pressione tuttavia la patta siccome anch'io che quasi ne fui pazzo dovendo ancora terminare la tratta che separava il chiosco dal palazzo maggione di cirrano questo è difficilissimo perché non solo conoscete il centro di Varese ma neanche questo cirrano abitava vicino alla stazione ma si doveva camminare in fretta e con attenzione perché non cadesse il giornale creando anche dei problemi con la popolazione aprimo il foglio sceno e vedi tutto ciò che voglio una nota grammaticale questo fatto di accordare il l'indicativo presente con il passato remoto è tipico della poesia della poesia del cinquecento bella figura comunque è giusto la carta patinata come un uovo si discudeva fresca all'appetito dei giovani affamati tanto nuovo cosciame aperto tra la mano e il dito faceva mostra di sé e l'amato rovo già descritto in un ottava precedente la visita del membro che è gradito all'occhio in varia guisa riceveva finché ad altro per tu gioito leva e all'interno dell'esibizione di questo atto attraverso il quale avviene la procreazione e anche la procrastinazione della vita sulla terra c'erano diverse forme ma anche la possibilità di IRE appunto ad altro pertugio e la rivista stessa con analsex richiamava proprio questa possibilità di una differente scoperta da parte di due ragazzi della della pornografia grazie buonasera grazie 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 il rapporto tra poesia e musica è assolutamente fondamentale perché la poesia è intrinseca alla musica e viceversa la musica è intrinseca alla poesia entrambi si basano sul ritmo su una progressione di tempi attraverso i quali avviene l'espressione e tanto per la poesia quanto per la musica quello che poi è fondamentale è proprio il senso del ritmo che se manca in entrambi manca anche inevitabilmente in qualunque tipo di rappresentazione artistica voglia essere creata l'esperienza di Covers nasce dal fatto che sia io che Tiziano Scalpa che erano Montanari ci siamo resi conto che era tempo che scrivevamo poesie partendo da canzoni pop allora abbiamo unito questa esperienza in comune l'abbiamo prima trasformata in libro e poi in uno spettacolo che ha girato tutta l'Italia abbiamo fatto un centinaio di date siamo andati anche all'estero a farlo e l'idea era proprio quella di fondere la canzone e usavamo la canzone come base con la poesia ed è stato un esperimento che è andato molto bene in modo anomalo per il libro di poesia il libro ha venduto poi perché forse per la poesia è anche il modo in cui poni le cose la cosa fondamentale quindi non è vero che non c'è un pubblico della poesia dipende da come lo si propone ed è andata bene anche come come show come manifestazione nelle piazze nei teatri e questo ancora a maggior conferma che la poesia non è noiosa non è per pochi basta inventarsi come del resto in tutte le forme d'arte dei modi per catturare l'interesse del pubblico grazie a tutti grazie a tutti